Pesce non tracciabile, privo dei documenti richiesti per legge, sequestrato a Pozzallo. Era arrivato ieri a bordo di un catamarano proveniente da Malta. I militari della Capiteneria di Porto hanno sorpreso il conducente di un furgone isotermico italiano con a bordo numerose specie ittiche, per oltre 80 kg, tutte prive dei previsti documenti di tracciabilità stabiliti dalla vigente normativa comunitaria di settore, tra le varietà pesce spada, pesce sciabola, aguglia imperiale e lampuga. Tutti i vari esemplari sono stati immediatamente sequestrati ed è stato elevato un verbale amministrativo al conducente e al proprietario, obbligato e insolido, del furgone isotermico. Successivamente, dopo il controllo dei prodotti sequestrati da parte dei medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale 7 di Ragusa, appositamente interessati, è stata disposta l'immediata distruzione, in quanto le specie ittiche sono state giudicate non idonee al consumo umano. L'attività della Capitaneria di Porto, diretta principalmente a tutelare i cittadini dall'acquisto di prodotto ittico non tracciabile e quindi di cui non si conosce la provenienza e la tipologia di cattura, pone particolare attenzione alla specie tutelate di interesse per la pesca, tra cui proprio il pesce spada, soggettato a rigidi vincoli di legge derivanti da specifica normativa di settore, anche a tutela dei pescatori professionisti e dei commercianti che operano nella legalità ed in trasparenza nei confronti dei consumatori.